droga due arresti a niscemi marito e moglie nei guai c'è un terzo indagato calta nissetta festeggia il record del cannolo massiccia partecipazione di pubblico in piazza perdita idrica in via bisolati intervento di calta acqua lavori sul percorso della coppa nissena organizzata dall'automobile club di calta nissetta in programma dal 16 al 18 calcio l'altra nissa punta solo sui giovani in collaborazione con l'ella sverona bentrovati a gela ordinanza di custodia cautelare per un imprenditore sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 4 milioni e mezzo di euro un imprenditore di gela proprietario di due aziende è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari con l'accusa di non avere versato imposte per circa 4 milioni e mezzo di euro nei guai sono finiti anche il commercialista delle due imprese che non potrà esercitare attività di imprese e consulenza fiscale per un anno e i rappresentanti legali di altre due aziende che non potranno assumere per un anno incarichi direttivi sempre a livello aziendale in totale a parte i destinatari di misura cautelare sono nove gli indagati e il gip del tribunale di gela anche disposto il sequestro da 4 milioni e mezzo di euro nei confronti di tutti loro in base alla ricostruzione dei militari della guardia di finanza che si sono occupati del caso sotto il coordinamento della procura di gela i presunti responsabili hanno messo in piedi una vera e propria evasione fiscale attraverso l'indebita compensazione di tributi dovuti realizzata attraverso la procedura dell'accollo tributario quindi con la possibilità del saldo di debiti attraverso terze persone ed effettuando sempre secondo l'accusa compravendite di creditiva risultati del tutto inesistenti le recenti indagini effettuate nel territorio di gela hanno consentito di recuperare al momento crediti per 24 milioni di euro droga due arresti a niscemi marito e moglie nei guai c'è un terzo indagato sono 114 gli episodi di spaccio documentati dai carabinieri di niscemi tra il giugno e l'agosto del 2021 e che sono costati l'arresto per una coppia di coniugi del paese in manette sono finiti giacomo buccheri 32 anni e la moglie marianna lucia amato 31 anni nei confronti dell'uomo il gip del tribunale di gela roberto riggio ha disposto la custodia cautelare in carcere mentre per la moglie di quest'ultimo è stata decisa la misura degli arresti domiciliari una terza persona invece indagata a piede libero per favoreggiamento in quanto secondo l'accusa aveva aiutato i due presunti pusher a eludere le indagini ma il giudice in questo caso ha respinto la richiesta di applicare la misura del divieto di avvicinamento a buccheri amato avanzata dal sostituto procuratore della città del golfo luigi lovalvo un lavoro certosino quello portato avanti dagli investigatori dell'arma di niscemi che hanno documentato i vari episodi di spaccio di cocaina ashish e marihuana grazie a una serie di appostamenti e pedinamenti nel corso dei quali i militari hanno realizzato numerosi filmati in base a quanto si evince dalle oltre 100 pagine dell'ordinanza del giudice l'indagine è partita dopo una segnalazione arrivata alla stazione dei carabinieri successivamente i militari avevano anche eseguito diverse perquisizioni nel corso delle quali avevano trovato e sequestrato stupefacenti capendo così di essere sulla pista giusta montante il tribunale di caltanissetta ha deciso di riunire i due processi in corso con rito ordinario sono stati riuniti in un unico fascicolo i due processi riguardanti il cosiddetto sistema montante lo ha deciso il tribunale collegiale di caltanissetta nell'udienza di questa mattina si tratta dei due processi in corso con il rito ordinario uno è quello con 17 imputati scaturito dall'inchiesta double face l'operazione che nel 2018 aveva portato all'arresto dello stesso antonello montante il quale aveva però optato per il rito abbreviato il secondo con 13 persone rinviate a giudizio nei mesi scorsi scaturisce dal nuovo filone d'indagine che riguarda le presunte ingerenze politiche di quello che conosciuto come il cerchio magico messo in piedi sempre secondo l'accusa dallo stesso montante e dai suoi fedelissimi una decisione che i giudici del tribunale hanno preso visto che i due processi riguardano aspetti di una vicenda legata dallo stesso filo conduttore e anche per evitare incompatibilità dei componenti del collegio giudicante che se i due dibattimenti rimanessero separati dovrebbero astenersi dal trattarne uno causando così ritardi alla prosecuzione una volta disposta alla riunione dei due processi il tribunale presieduto da francesco d'arrigo ha rinviato l'udienza al prossimo 26 settembre caltanissetta festeggia il record del cannolo massiccia partecipazione di pubblico in piazza 21 metri 43 centimetri caltanissetta il suo record il cannolo più lungo del mondo momento di festa per la città e per tutta la macchina organizzativa da aristoworld agli enti istituzioni e privati che hanno collaborato presenti anche le autorità in piazza garibaldi per l'evento durante il quale è stato anche ricordato l'11 settembre ci hanno provato i pasticceri nisseni da tutta la sicilia ci sono riusciti sarebbe bastato molto meno per superare il record precedente ma la squadra capitanata dal maestro pasticcere nonché cavaliere lillo de fraia ha puntato in alto verso il record che sarà difficile da battere finalmente stanotte posso dormire tranquillo ma non dormirò perché la stanchezza delle gambe non mi farà dormire lo stesso sono felice che abbiamo raggiunto il record sono felice perché c'è stato diciamo l'aiuto di tutti tutti siamo stati partecipi e collaborativi la città mi vuole bene io voglio bene la città e dico che tutti insieme abbiamo lottato per dare paternità a questo a questo cannolo che leggendo non leggenda adesso abbiamo dato un titolo di maestà e sua maestà il cannolo di caltanissetta qualche cosa diciamo da abbiamo dato di appartenenza quindi dobbiamo dare un futuro che è tutto come non deve finire qua assolutamente ma dobbiamo dare un seguito col brand del cannolo di caltanissetta che sarà appunto un 10 centimetri 80 grammi che dobbiamo farlo conoscere mangiare e gustare in tutto il mondo 400 kg di ricotta compresa la buccia saremmo più di 500 kg numerosi professionisti dai più giovani alle mani più esperte che hanno dato il loro contributo almeno 120 tanto che siamo tanti che adesso diventeremo pochi perché andare a mangiare a queste migliaia di persone diventeranno poche faremo fatica è una festa per la sicilia è una festa per le nostre eccellenze è una festa per questa città e questa folla festante intorno a noi lo dimostra è un successo per il territorio perché è attraverso le nostre eccellenze e no gastronomiche e agroalimentari che la sicilia costruisce il suo futuro se la sicilia vuole un grande futuro deve guardare imparare dal suo passato viva la sicilia e viva il cannolo e viva caltanissetta tanti nisseni che hanno affollato il centro storico in attesa di degustare il cannolo di caltanissetta che aveva appena conquistato il record e di condividere così un momento di orgoglio per l'intera città è bellissima che risalta la città di caltanissetta speriamo che ce ne saranno altre per condividere questo questo evento speciale che ci rappresenta in tutto il mondo è una bella iniziativa così almeno tutto il mondo conosce che a caltanissetta attualmente ha il guines dei primati per il cannolo il cannolo più lungo del mondo due sorelle gemelle oggi spose in cattedrale un emozionante si condiviso una giornata ricca di emozioni non solo per gli sposi nella cattedrale di caltanissetta un matrimonio condiviso quello di sonia e daniela loiacono due sorelle gemelle che nel pomeriggio di oggi hanno detto sì rispettivamente a salvatore bellomo e angelo parisi dalla nascita sonia e daniela sono inseparabili vivendo insieme tutte le esperienze della vita un rapporto così forte da indurre entrambe a fissare la stessa data delle nozze in chiesa e ci aspettiamo tanta felicità e c'è la commozione tanto futuro e tanto amore e tutto quello che viene una bella prospettiva una bella cosa una bella vita insieme con i nostri futuri mariti è una giornata emozionante però voglio dire organizzata bene adesso siamo qua in denso è molto emozionante molto interventi urgenti in contrada alla spia segnalazioni anche dal comitato di quartiere mangialasagna chiedono interventi di manutenzione per migliorare le condizioni del manto stradale oltre che della segnaletica verticale orizzontale i residenti della zona di contrada alla spia un'arteria fondamentale per la viabilità in entrata e in uscita da Caltanissetta visto che si tratta di fatto di un tratto della statale 122 bis in prosecuzione di via Borremans la quale collega la città al bivio verso la bretella della statale 640 che a sua volta è il collegamento per gli ingressi dell'autostrada A19 Palermo-Catania oltre che per Santa Caterina segnalazioni che arrivano dal presidente del comitato di quartiere mangialasagne Salvatore Scarpulla e dal rappresentante del comitato spontaneo la spia Santuzza Vincenzo Mattina entrambi hanno sottolineato la presenza di buche e avvallamenti piuttosto pericolosi lungo il tratto di strada interessato ma i problemi non finiscono qui visto che nella zona sono presenti anche erbacce ai margini della carreggiata che andrebbero estirpate e negli anni scorsi infatti si sono anche verificati degli incendi la carreggiata è inoltre piuttosto stretta e questo finisce per rendere meno agevole la viabilità visto che sulla SS 122 bis transitano anche autobus e camion con stazza superiore alle 20 tonnellate Rete ferroviaria completati nei tempi previsti gli interventi tra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi Sono stati completati i lavori alla linea ferroviaria tra Caltanissetta Centrale e Xirbi RFI Rete Ferroviaria Italiana infatti comunica che sono terminati i lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e dunque si riparte con la regolare circolazione sulla Catania Palermo sulla Palermo-Trapani e sulla Catania-Caltagirone sarebbero rientrati anche nei tempi previsti per i lavori nel tratto che interessa il capoluogo Nisseno Gli interventi per un importo complessivo di più di 40 milioni di euro sono stati avviati il 12 giugno Interessate le linee Catania-Palermo tra Bicocca e Lercara di Ramazione linea Catania-Caltagirone fra Lentini di Ramazione e Caltagirone linea Palermo-Trapani via Castelvetrano tra Cinesi e Castelvetrano e infine fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi Ed in particolare sono stati effettuati dei lavori connessi al raddoppio dei binari tra Bicocca e Catena Nuova e interventi strutturali nella galleria Magazzinazzo fra Bicocca e Lercara di Ramazione si legge Interventi di manutenzione straordinaria fra Caltagirone e Lentini di Ramazione lungo le gallerie fra Cinesi e Castelvetrano e attività connesse alla demolizione del cavalca Ferrovianas fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi Questi lavori rientrano in un quadro complessivo di investimenti che consentirà di creare le condizioni si legge ancora nel comunicato per conseguire gli obiettivi di miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio come stabilito nell'ambito dell'accordo quadro per i servizi di trasporto pubblico locale sottoscritto fra Regione e RFI lo scorso marzo si precisa ancora tale scenario anche grazie agli investimenti previsti dal PNRR rappresenta un'importante opportunità per creare le condizioni di miglioramento dei collegamenti regionali A Caltanissetta perdita idrica in via Bissolati intervento di Caltacqua Un problema alla rete idrica ha causato una perdita d'acqua nella zona di via Leonida Bissolati nel tratto che separa il Palazzo di Giustizia dalla caserma della Guardia di Finanza Alcuni cittadini hanno notato una copiosa perdita d'acqua che ha dato origine a un vero e proprio fumiciattolo in un tratto dove, tra le altre cose, l'asfalto è completamente inesistente e hanno subito segnalato l'accaduto alla nostra redazione e anche a Caltacqua Le immagini realizzate dal nostro operatore documentano il disservizio visto che nell'area c'erano parecchi mezzi parcheggiati e la strada era diventata quasi impraticabile per i pedoni L'accumulo di acqua, infatti, dovuto alla copiosa fuoriuscita idrica ha formato in alcuni punti delle pozzanghere melmose L'asfalto, infatti, non è uniforme e in alcuni tratti è del tutto mancante in quanto detriti e terriccio ne hanno preso il posto Una volta partita la segnalazione sono arrivati sul posto tecnici operai di Caltacqua che hanno lavorato a lungo per identificare la natura del problema e per porvi il rimedio riportando la situazione alla normalità La compagnia Carol di Catania vince il premio teatrale Abbate È stata la compagnia Carol di Catania con la commedia tragicomica Le sedie ad aggiudicarsi il premio teatrale popolare Michele Abbate premiati anche due artisti della compagnia catanese Mario Sorbello come miglior attore protagonista e Maria Luisa Lombardo come migliore attrice protagonista Si spengono i riflettori dunque sull'edizione di quest'anno del premio che ha visto la partecipazione di quattro compagnie siciliane assegnati dalla giuria tecnica anche riconoscimenti come migliore caratterista donna Eugenia Lombardo per lo spettacolo Delitto Imperfetto della compagnia Amici del Teatro di Vittoria Compagnia che ha anche ottenuto il premio della critica assegnato dal Lions Club di Caltanissetta e il regista Vito Mauro Pinizzotto il premio per la migliore regia e ancora premio migliore attore caratterista Marco Comitini Per lo spettacolo ditegli sempre di sì della compagnia Il Teatro del Pero di Comiso Quest'anno siamo stati innanzitutto fortunati perché il bel tempo ci ha accompagnati per tutte le sue serate Gli anni passati abbiamo iniziato al Parco Palmentelli poi abbiamo concluso al Teatro Margherita perché la pioggia ci ha inseguiti per un paio di giorni Quest'anno siamo stati fortunati siamo stati anche fortunati per lo spessore qualitativo delle quattro compagnie in concorso infatti la giuria ha avuto non pochi problemi per assegnare i riconoscimenti Positivo il bilancio della manifestazione svoltasi nella cornice del Parco archeologico Palmentelli così come racconta lo stesso direttore artistico serate che hanno coinvolto il pubblico presente come nel caso dello spettacolo fuori concorso del Teatro Stabile Nisseno Ora però muore, amore mio andato in scena venerdì 9 settembre perché ci siamo resi conto che questo è il momento in cui la gente vuole ridere vuole ridere perché dopo due anni di chiusura forzata la gente è ridiscesa nelle piazze speriamo che venga quest'inverno nei teatri noi abbiamo deciso quest'anno di mettere in scena una farsa dove gli attori sono tre io, mio fratello Giovanni Speciale e Ilaria Giammusso con la regia di Antonello Capodici che dopo un periodo in cui ha lavorato a Catania ritorna a dirigere il Teatro Stabile Nisseno e sì, è avuto un grandissimo successo abbiamo fatto più di 30 repliche non ci siamo fermati ci fermeremo il 17 settembre e speriamo di continuare nella tournée invernale il grand alla finale invece di sabato 10 settembre ha visto la partecipazione di diversi ospiti guest star Danila Staltri con il suo spettacolo di monologhi però li faccio quello che non piace di solito dei monologhi da parte del pubblico intendo è proprio il fatto che ci sia soltanto un attore che parla, parla molto spesso solo di se stesso invece questo è un monologo un po' particolare perché in realtà parte come un monologo ma in realtà non lo è poi così tanto e non voglio insomma rivelare altro ecco, quindi diciamo che anche da parte dell'attore in questo caso da parte mia c'è questa volontà di andare oltre il monologo e il narcisismo dell'attore per coinvolgere anche il pubblico Covid-16 positivi nel Nisseno 4 a Gela 3 a Caltanissetta 2 a Mussomeli 16 nuovi casi in provincia e di questi soltanto 3 a Caltanissetta questi dati secondo l'aggiornamento dell'ASPA Nissena dell'11 settembre relativo alle 24 ore precedenti i 16 pazienti positivi al SARS-CoV-2 sarebbero tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza sono 4 di Gela 3 di Caltanissetta 2 di Mussomeli 2 di Resuttano 1 di Mazzarino 1 di Riesi 1 di San Cataldo 1 di Serra di Falco e 1 di Sutera dimesso dalla degenza ordinario un paziente di Niscemi 40 i guariti dal Covid-19 19 pazienti di Gela 9 di Caltanissetta 5 di Niscemi 2 di Mussomeli 1 di Delia 1 di Mazzarino 1 di Riesi 1 di San Cataldo e 1 di Acquaviva Platani in tutta Italia invece i nuovi casi sono 12.317 e di questi in Sicilia 707 questi i numeri dell'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente che arrivano dal bollettino dell'11 settembre scaricabile dal sito tematico dedicato del Ministero della Salute Lavori sul percorso della Coppa Nissena organizzata dall'Automobile Club di Caltanissetta in programma dal 16 al 18 L'edizione del centenario della Coppa Nissena si avvicina e lo storico tracciato si rifà in look sono infatti in corso gli interventi tra il Ponte Capodarso e il Villaggio Santa Barbara per realizzare i nuovi tratti di asfalto in modo da rendere il percorso il più sicuro possibile La Coppa Nissena è infatti in programma per questo fine settimana dal 16 al 18 settembre e quest'anno sarà valevole come round conclusivo del campionato italiano di velocità montagna oltre che settimo appuntamento del campionato italiano velocità salita autostoriche prova di trofeo italiano velocità montagna sud e valida anche per il campionato siciliano velocità salita per auto moderne storiche Per questo motivo il presidente dell'Automobile Club di Caltanissetta Carlo Alessi si è impegnato in prima persona nell'avviare tutte le iniziative per organizzare al meglio l'ormai imminente edizione della Coppa Nissena e tra queste rientrano anche la collaborazione con gli enti locali e l'ANAS che ha infatti predisposto la stesura dei nuovi tratti di asfalto Lo stesso avvocato Alessi insieme ai vertici dell'ACI si è detto grato nei confronti dell'ente stradale per il lavoro in corso di svolgimento L'Automobile Club ha sottolineato come tali interventi sulle strade per aumentare la sicurezza di un evento sportivo finiscano per ricadere in maniera positiva sull'intero territorio Sport Calcio, l'altra Nissa punta solo sui giovani in collaborazione con il Verona Lo Sport Club Nissa 1962 porta un nome importante a Caltanissetta quello di Nissa fondate nel 2010 Natale Ferrante con l'intento di fare solo settore giovanile dal 2013 al 2017 ha disputato per 5 anni campionati nella Lega Nazionale di Lettanti approdando in 4 stagioni dalla terza categoria all'eccellenza Retrocessa nel 2017 per il caso Castelbuono dopo che si era salvato sul campo ai play-out fu fatale il doppio spareggio con un atletico campo frango ha deciso di proseguire con il solo settore giovanile questo è il tredicesimo anno che siamo affiliati con la Federazione Italiana Gioco Calcio da qualche anno ci occupiamo soltanto di settore giovanile e di attività di base siamo contentissimi, abbiamo fatto pure il dilettantismo però è giusto concentrarci, visto la nostra esperienza, sull'attività di base e sul settore giovanile e anche quest'anno abbiamo ricominciato già dal primo settembre con le attività di base siamo alle vigili di una stagione sportiva 2022-2023 l'anno scorso lo sport club in Issa 62 con i giovanissimi regionali era arrivato alla semifinale la regionale perdendo a Enna quest'anno avete deciso di fare un passo indietro a favore delle società alleate della CL Calcio cosa verrà lo sport club in Issa a livello di settore giovanile e di attività di base? più che un passo indietro abbiamo continuato questa collaborazione con gli amici della CL Calcio e quest'anno ci sarà anche la società New Team già l'anno scorso abbiamo iniziato questa collaborazione questa collaborazione ha portato grandi risultati abbiamo raggiunto noi come Under-15 la semifinale regionale dopo 15 anni dall'ultima volta con la Nistra del Presidente Mannino l'abbiamo raggiunto l'anno scorso la CL Calcio invece ha raggiunto grandi risultati sia con l'Under-17 sperimentale che con l'Under-15 sperimentale quest'anno abbiamo deciso che fosse la CL Calcio a continuare questo progetto un progetto non della sport club in Issa della CL Calcio ma un progetto giovanile per tutta la città naturalmente quest'anno noi faremo invece come sport club in Issa soltanto i provinciali e naturalmente tutte le categorie afferenti alla scuola dell'attività di base dell'LND Potete pregiarvi di un'importante affiliazione con il Verona che ormai durerà qualche anno? In che cosa consiste? E cosa farete quest'anno da questo punto di vista? Ma è da questo è il quarto anno che seguiamo la società professionistica dell'Ellast Verona l'abbiamo scelto perché ci seguono nella preparazione nell'organizzazione delle nostre attività di allenamento l'abbiamo scelta perché i loro tecnici professionisti ci seguono e vengono anche a Caltanissetta a seguire i nostri ragazzi e poi per noi e anche per noi alleatori e noi società è un modo per crescere insieme a una società storica e professionistica Eccellenza terzetto in testa nel Girone A Acragas, Cus Palermo e Sciacca a punteggio pieno Rinviata la partita della Nissa C'è un terzetto in testa alla classifica del Girone A del campionato di eccellenza dopo due giornate di campionato Acragas, Cus Palermo e Sciacca sono a punteggio pieno non ha giocato la Nissa la partita con l'oratorio San Ciro e Giorgio è stata rinviata a mercoledì 21 per l'indisponibilità dello stadio Marco Tomaselli con l'accordo tra le due società i biancoscudati torneranno in campo domenica all'esseneto di Agrigento contro l'Acragas ieri gli acragantini hanno conquistato il secondo successo di fila sul difficile campo di Mazzara 1-0 a 4 senza attenuanti per la squadra di casa In golla Mosur, Baio, Pavisic e Vitelli un derby molto sentito quello tra le massime espressioni calcistiche dei due capoluoghi fin dai tempi in cui le protagoniste erano la Nissa e l'Agrigento negli anni 30 del secolo scorso Gli altri risultati Gela FC sconfitto in trasferta dalla Cus Palermo con un parentorio 4-2 a reti bianche 0-0 e il match tra Don Carlo Misilmeri e Mazzarese Prima vittoria per l'Enna tra le Mura Amiche contro il Castellammare 3-1 Profavara Corsaro 0-1 sul campo del Resuttana San Lorenzo seconda vittoria dello Sciacca sul Casteldaccia 3-1 né vinti né vincitori tra Leonfortese e Parmonval 0-0 La classifica Acragas, Cus Palermo e Sciacca 6 punti Enna, Don Carlo Misilmeri e Parmonval 4 Casteldaccia e Profavara 3 Mazzarese 2 Brattorio, San Ciro e Giorgio Mazzare e Leonfortese 1 Chiudono a 0 punti Resuttana San Lorenzo, Nissa e Castellammare E tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì molto interessante da un punto di vista europeo perché guardate, è presente quest'area di bassa pressione sull'Europa sud-occidentale si fa sentire sulla penisola iberica, sulla Francia occidentale ma non riesce ad avanzare verso il Mediterraneo e l'Italia noi siamo in qualche modo protetti dallo scudo di quest'alta pressione di origine nord-africana ben piazzata su di noi e quindi se guardiamo la nuvolosità attesa sull'Europa e sul nostro paese vediamo che queste nubi non riescono ad avanzare verso il nostro paese lo fanno a fatica ma quando anche raggiungono le nostre regioni più occidentali poi tendono a dissolversi in quel campo anticiclonico di cui vi parlavo prima e quindi come precipitazioni nulla da segnalare senza nuvole, cosa vuoi che piova quindi davvero giornata da piena estate per questo martedì prevediamo gran sole da nord a sud magari qualche velatura, qualche nuvoletta si fa vedere sui settori più occidentali ma senza conseguenze non le abbiamo neanche indicate temperature localmente oltre i 30 gradi quindi valori diurni ancora da piena estate però di notte, primo mattino, aria decisamente più frizzantina per sapere a questo punto fino a quando andremo avanti così consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Pasqualino Via Xiboli Villaggio Santa Barbara Servizio notturno Al Duomo Via Filippo Paladini